Il sesto bilancio di sostenibilità conferma l'importanza del Piemonte nel panorama del nostro gruppo. Il Piemonte si conferma la seconda regione italiana per presenza del gruppo 2A. Oggi portiamo dei dati molto significativi, oltre 160 milioni di euro è il valore che il gruppo ha generato sul territorio. Una gran parte di questi sono legati alla nostra supply chain, quindi agli ordinativi che noi abbiamo conferito nel corso dell'anno alle imprese del territorio, un numero che ha aumentato di oltre il 58%. La presenza è forte negli ambiti dell'ambiente, quindi con tutta impiantistica che aiuta a gestire la circolarità, quindi tutta l'economia circolare. E poi siamo presenti nel campo dell'energia, soprattutto siamo nella centrale di Chivasso che ci ospita, che è tuttora un impianto importante nel panorama della transizione energetica italiana, perché pur essendo un impianto ancora tradizionale diventa sempre più importante per assicurare al sistema elettrico tutto il bilanciamento di cui ha bisogno e di cui avrà sempre più bisogno con la penetrazione maggiore delle energie rinnovabili. Noi stiamo parlando nell'ultimo anno in Piemonte di oltre 17 milioni di euro di investimenti che sono stati appunto suddivisi tra queste filiere, sull'ambiente, sul potenziamento degli impianti di recupero di materiale ed energia che sono presenti sul territorio e anche su questa stessa centrale dove abbiamo in programma degli investimenti anche per l'installazione di batterie, di storage che serviranno proprio per aumentare la flessibilità dell'impianto e per aumentare la flessibilità del sistema per meglio rispondere alle esigenze della transizione energetica nazionale.